voglio un mollico o senza il pane? senza? senza mollico che altro? uno e cinquanta letto questo ha cresciuto 200 metri staglietta, viene proprio vicino basta qui? va bene, ho il 360 metri si, vai di mattare, non mi ricordo, va di mattare 15 minuti si, si, fate potete, questo o questo? no, no, dammi i veci minuti guarda, guarda, è ottenuto, non lo metto oggi, vado a diamo a to andiamo dentro il fruto, fruto e stromola non lo metto, non lo metto, non lo metto si, qua la da diviso due, vero? si, no, 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 no ne uno, e due, e tre, e quattro e progola, e pomodori Grazie.